Perché si scrive? Perché si scrive è una domanda inevitabile che ritorna sempre per gli scrittori, si scrive perché si ha paura della morte? È possibile? O si scrive perché si ha paura della vita? Anche questo è possibile, si scrive perché ha nostalgia dell'infanzia? Perché il tempo è passato troppo alla sverta? O perché il tempo sta passando troppo alla sverta e noi vorremmo anche un po' fermarlo o che andasse più piano? Si scrive per rimpianto? Perché avremmo voluto fare una certa cosa e non l'abbiamo fatta? O non si scriverà invece per rimorso? Perché non avremmo dovuto fare una certa cosa e invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui ma vorremmo essere là? O si scrive perché si è andati là ma tutto sommato era meglio se si restava qui? O si scrive perché sarebbe la cosa migliore sarebbe essere là dove volevamo andare ma essere anche un po' qui dove stavamo. Si scrive perché ecco qui mi facevo una citazione di Baudelaire di uno dei poemi a pose dello Splint di Parigi quando dice La vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare di letto. Quello che sta vicino alla finestra pensa che guarirebbe prima se lo spostassero vicino alla stufa E quello che sta vicino alla stufa pensa che guarirebbe prima se lo mettessero vicino alla finestra. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata del podcast Il teatro dove batte il cuore. Avete appena ascoltato la voce del grande scrittore Antonio Tabucchi tratto da un frammento della sua intervista sui possibili motivi della scrittura e sul perché si scrive. Questa puntata infatti vuole essere un omaggio all'autore a nove anni della sua scomparsa. Antonio Tabucchi infatti è considerato uno dei più grandi autori europei del secondo novecento. I suoi libri sono stati tradotti in 40 lingue. Italiano di nascita, portoghese per vocazione, è riconosciuto come uno dei più profondi conoscitori e divulgatori dell'opera di Fernando Pessoa. Intellettuale, impegnato, scrittore civile nel vero senso della parola, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti sia in Italia che all'estero. È stato professore all'Università di Siena, articolista per Il Paese e Il Corriere della Sera, collaboratore di Le Monde, L'Unità e La Repubblica. Alcuni dei suoi romanzi sono stati portati sullo schermo da registi cinematografici e teatrali, sia italiani che stranieri. Si può dire tanto di Tabucchi, ma in realtà di lui ancora non si sarebbe detto nulla. La compagnia ha dedicato ad Antonio Tabucchi molte importanti tappe della sua attività teatrale, portando sulla scena alcuni dei suoi romanzi, per citarne alcuni Requiem, Notturno Indiano, Donati Portopim e Sostiene Pereira, tratto da quello che è probabilmente il suo libro più famoso. Dal 2012 ogni anno la compagnia omaggia la sua letteratura con l'iniziativa Appuntamento con Tabucchi. Non ci resta che augurarvi un buon ascolto. Buonasera. In questa puntata speciale Appuntamento con Tabucchi, in omaggio al grande scrittore, avremo diversi ospiti con noi. La regista Teresa Pedroni della compagnia Diritto e Rovescio, a cui chiederemo come è nata la lunga collaborazione con Antonio. E questa è l'iniziativa Appuntamento con Tabucchi. Avremo il piacere di avere con noi Riccardo Greco, fondatore nel 2019 dell'Associazione Antonio Tabucchi a Vecchiano, luogo di nascita dello scrittore, e gli attori che hanno partecipato alle varie edizioni dello spettacolo sostiene Pereira, e che tornano sull'argomento provando il nuovo spettacolo Pereira, frequentare il futuro. Entriamo nel vivo e iniziamo con Riccardo Greco. Benvenuto. Salve. Ci vuole raccontare come è nata l'Associazione Antonio Tabucchi e cosa avete previsto quest'anno in ricorrenza del 25 marzo? Grazie di questa opportunità di poter parlare dell'Associazione Pulturale Antonio Tabucchi, che nasce sia a Vecchiano nel 2019, ma che in realtà ha una lunga storia alle spalle, lunga, medio-lunga diciamo. È un gruppo di amici, amici di Antonio Tabucchi, amici a vario titolo, perché si può essere amici di uno scrittore frequentando la sua casa, essendo effettivamente amici in presenza, per usare un'espressione che ormai oggigiorno, con la situazione che viviamo, abbiamo imparato a utilizzare nella sua accezione più curiosa, ma si può essere anche amici virtuali, amici putativi, amici per affinità elettive, per usare un'altra espressione, stavolta però cara a uno scrittore, un altro scrittore grandioso. Ci sono quindi amici della sua opera, amici personali, amici di famiglia, vecchianesi e non vecchianesi. E questi amici, dal 2012, anno che purtroppo ha visto la scomparsa di Antonio il 25 marzo di quell'anno, hanno avuto poco tempo, ma tanta voglia di mettersi al servizio della sua memoria. Per cui già dal settembre del 2012, sebbene l'associazione non fosse formalmente costituita, queste persone, questi amici vecchianesi o dell'entourage vecchianese, hanno iniziato a porsi la questione del come, del quando e del perché e quali fossero le modalità migliori per ogni anno, possibilmente, ricordare l'amico scrittore Antonio Tabuchi. A Vecchiano, sì, soprattutto a Vecchiano, perché se c'è un fattore che, devo dire, non è mai mancato dal 2012 ad oggi, è una sinergia, è una collaborazione stretta, è un'intesa privilegiata tra i membri dell'allora gruppo, ancora senza etichetta, senza nome, degli amici di Antonio Tabuchi, con la sponda rappresentata dall'amministrazione comunale, quindi dal sindaco di Vecchiano, l'assessorato alla cultura e anche tante altre persone che negli uffici ci hanno sempre dato una mano per organizzare un qualcosa. Per cui è una storia che nasce nel 2012, fino a che nel 2019 trova una sua collocazione anche giuridica, cioè appunto la costituzione dell'associazione, pressoché con gli stessi amici che dal 2012 si erano dati da fare, si erano proteggati per ricordare Antonio Tabuchi e la sua opera. L'associazione ha ormai un centinaio di soci e sarebbe destinata a crescere, se non fosse che ovviamente in questo ormai anno, anche un pochino più di un anno, ci siamo dovuti un pochino fermare perché la nostra forza era organizzare convegni, presentazioni di libri, eventi comunque in presenza, sfruttando anche i belli spazi che la cittadina di Vecchiano ci offre, un teatro, l'Olimpia, che era frequentato dallo stesso Tabuchi e sale atte a performance, a letture e quant'altro. E chiaramente ora questo non lo possiamo fare, motivo per cui per quest'anno ci siamo inventati un paio di percorsi culturali, uno è proprio un percorso fisico che ancora però non siamo riusciti a mettere su per i motivi di qui sopra, ovvero un itinerario tabuchiano per la città di Vecchiano, che dovrebbe avere quindi un inizio in un luogo X della città per poi snodarsi in un itinerario di tappe care all'opera di Tabuchi o care al Tabuchi bambino, al Tabuchi adulto, al Tabuchi studente, al Tabuchi scrittore e così via. Questo non lo possiamo fare perché ancora i tempi non sono maturi anche se ci stiamo lavorando, quello che invece siamo riusciti a fare e a giorni, anzi forse quando uscirà questo podcast sarà proprio il momento, di svelare la sorpresa è che abbiamo, grazie al contributo di alcuni attori e scrittori cari sempre alla figura di Antonio, quindi presenti nel suo entourage, siamo riusciti a mettere su delle letture meravigliose. Quest'anno ricorrono i 40 anni dall'uscita della prima edizione del Gioco del Rovescio, che fu pubblicato quindi nel 1981 e noi, per i nostri soci, per i nostri amici, per tutti coloro che ci seguono dal sito, sui social, abbiamo pensato di procorre queste letture emozionanti di un'opera fondamentale nella parabola letteraria di Antonio, che appunto è il Gioco del Rovescio. Allora, primo appuntamento, 25 marzo, questo sì, ve lo posso dire, non ci sono segreti, Giuseppe Cederna legge il Gioco del Rovescio, cioè il racconto che dà il titolo all'intera raccolta, e poi ogni mese ci saranno nuove letture di persone disponibilissime, gentilissime, nostri amici, ma anche grandi artisti, che ci stanno dando una mano in questo anno terribile, che ormai, come dicevo, è più di un anno, ma che non per questo ci deve scoraggiare e far perdere di vista i nostri obiettivi, i nostri progetti e anche i nostri affetti. E noi alla letteratura, come diceva Antonio, li vogliamo bene. Grazie. Ringraziamo Riccardo Greco per il suo intervento. È con noi ora la regista, Teresa Pedroni. Ben trovata. Avremmo diverse domande da farle. La prima riguarda la genesi del lavoro teatrale sui testi di Tabucchi. Com'è nata l'idea di realizzarli teatralmente? Che cosa ha rappresentato l'incontro con la letteratura di Antonio Tabucchi? L'incontro con la letteratura di Antonio Tabucchi è nato con il suo unico testo teatrale, che erano i dialoghi mancati, che abbiamo messo in scena nel 1994 con Roberto Erlisca. Lo spettacolo andò molto bene, diciamo che fu un successo, Roberto era veramente straordinario e quindi Antonio Tabucchi da Firenze, perché allora abitava a Firenze, venne al Teatro Belli a Roma per vedere lo spettacolo e fu in quell'occasione che vi la fortuna di conoscerlo. Fu subito un incontro molto particolare, nel senso che quando lui si presentò, nella hall, io mi aspettavo il professore, perché avevo già parlato due o tre volte per telefono, infatti lui mi segnava a Fisa, stavo per dargli la mano, invece lui mi è venuto incontro e mi ha abbracciato. Da quel modo di rapportarsi con gli altri che aveva Antonio Tabucchi, che era molto curioso delle vite degli altri, era molto attento, un ascoltatore attento, è stato un segno per cui è nata una grande curiosità rispetto alla sua letteratura e che io per mettere in scena i dialoghi mancati, già avevo letto diversi dei suoi libri, ero stata a Lisbona, perché non si poteva non andare a Lisbona, non andare in Portogallo dopo aver letto i libri di Antonio. Mi ero innamorata del Portogallo, di quell'atmosfera così magica, così sospesa di questo spazio del tegio, che nei libri di Tabucchi era espressa molto bene. Ecco, ho ripreso a leggere altri libri suoi e così sono nati altri progetti, ho messo in scena Requiem, poi abbiamo messo in scena Notturno Indiano e intanto parallelamente da questo incontro si stava creando un'amicizia. Finché a Parigi, quando siamo andati appunto con Notturno Indiano al Festival des Italiens, nel Caffè Le De Magots, a Saint Germain, ho chiesto a Antonio se ne diceva se mettevo in scena Sostiene Pereira e lui ha detto sì e così abbiamo raggiunto anche la tappa di mettere in scena Sostiene Pereira, che è una delle opere penso più conosciute di Tabucchi. Lui ha anche partecipato alla stesura del testo e diciamo che non era assolutamente invasivo, era sempre molto discreto, lasciava sempre la massima libertà. Nel momento che aveva concesso, aveva dato la disponibilità, dava la libertà di scrivere, di interpretare quello che uno aveva in mente e che uno percepiva dal suo testo. Quello che mi ha colpito nella sua letteratura, che è stata poi un viaggio, perché è un viaggio interiore e che mi ha accompagnato negli anni, appunto mettendo in scena i suoi testi, molti dei suoi testi, è questa atmosfera, questo riuscire ad essere su due situazioni parallele, la realtà e questo altrove. Questo suo lavoro sul tempo che ci attraversa o siamo noi di attraversare il tempo. È una fascinazione questa sua atmosfera metafisica, piena di poesia, anche di intuizioni, di magia nel senso di possibilità di raggiungere certi significati attraverso l'intuizione, attraverso la sensibilità. Diciamo che mi sono innamorata del mondo che lui ha creato, perché lui veramente è un autore che si può dire che fa un mondo. Questo è quello che posso dire. Mi parli dello spettacolo su cui stavate lavorando, Pereira, frequentare il futuro, tratto dal testo Sostiene Pereira, di cui avreste dovuto realizzare una ripresa in streaming in questi giorni? Diciamo che è uno studio iniziato in un primo appuntamento con Tabuchi nel 2012, su Sostiene Pereira e il rapporto immagine-spettacolo dal vivo. In questo momento ci è sembrato molto interessante, vista la condizione in cui ci troviamo, di approfondire questo inizio di lavoro e quindi ci stavamo preparando allo streaming che purtroppo è stato interrotto perché siamo passati in zona russa. È un work in progress che impegna gli stessi attori del nucleo originale che ha interpretato Sostiene Pereira, ci sono tre attori che sono gli stessi e questo rapporto confronto tra il passato e il presente, essendo interpretati gli stessi ruoli sempre dagli stessi attori e sono passati ormai più di dieci anni, ci è sembrato un altro elemento molto stimolante. Per adesso non possiamo dire niente, sono varie fasi che attraverseremo per arrivare poi al prodotto completo con una coscienza maggiore, un po' tutti, del percorso. Per adesso seguiamo le ragioni del cuore, come dice Antonio Tabuchi. Grazie mille Teresa Pedroni. Speriamo presto di poter vedere lo spettacolo Pereira frequentare il futuro in teatro. Sentiamo ora gli attori Gianluigi Fogacci e Stefano Scherini, interpreti dello spettacolo rispettivamente nei ruoli di Dottor Cardoso e di Monteiro Rossi che nell'edizione di Sostiene Pereira recitavano gli stessi ruoli. Sentiamo le loro emozioni nel ritrovarsi nei panni degli stessi personaggi anche se in una cornice diversa e dopo tanti anni. Buonasera Gianluigi, che cosa potresti dirmi a proposito di questo viaggio nel tempo, passato, presente e futuro in compagnia del Dottor Cardoso, il tuo personaggio? Come interagisci con lui? Ti sembra utile questa ulteriore tappa per una comprensione più profonda dei messaggi che il personaggio contiene, dei significati che il personaggio vuole veicolare? Beh sì, è stato proprio, ed è, un viaggio nel tempo, quello con Cardoso. A questo punto non credo nemmeno sia più corretto dire che io faccio qualcosa per questo personaggio, nel senso che cerco di dare delle cose, restituire, ma è proprio il personaggio che fa qualcosa per me, nel senso che mi parla, mi è accanto. Mi è stato accanto dal 2005, da quando abbiamo cominciato questa avventura di Sostiene Pereira, insieme a Teresa, e poi nelle varie riedizioni che ne sono state fatte, ma anche durante gli intervalli, non ha mai cessato di parlarmi, di starmi vicino. Nella sua strana e bizzarra filosofia, nel suo parlare della confederazione delle anime, cosa in cui mi sono riconosciuto da subito moltissimo, perché poi chi poi più di un attore ha a che fare con tanti aspetti della propria personalità, proprio di vari anime. Io sento di avere dentro di me anime diverse, e questo lavoro ci chiama a dare vita a queste anime diverse, di volta in volta, alcuni personaggi entrano, poi escono, altri invece entrano e non escono mai più da te, e forse perché c'erano già, e allora hanno trovato solo una forma letteraria, poi questa forma letteraria è diventata una forma scenica, eccetera, e però continuano a lavorarti dentro, continuano a starti vicino, soprattutto come Dottor Cardoso, e più in generale la parola di Tabucchi, che ha uno sguardo così unico, così singolare, e ti avvicino anche nei momenti più delicati, più strani, più insoliti, questo rapporto così emblematico con la morte, questa visione non consolatoria, però che te la rende in qualche modo possibile, te la rende anche quasi affascinante in certi momenti, e devo dire che nella vita, poi quando comincia ad avere serie di lutti che ti accompagnano, sentire le sue parole, ripensare le sue parole, è qualcosa che aiuta affinché questi eventi diventino anche possibili, non dico positivi, ma possibili. Ecco, queste un po' sono le cose di, le mie esperienze di Tabucchi, questo viaggio nel tempo che dura tuttora, è anche l'ultima volta, quando abbiamo letto, abbiamo fatto una prova via Zoom, ridire le parole di Cartoso a voce alta, insieme agli altri compagni di viaggio, è stata già un'emozione, è già scoperto qualcosa di nuovo, perché è un materiale sempre in evoluzione, un materiale sempre nuovo tutte le volte, basta accentare una parola, addirittura un avverbio, e si illuminano cose nuove, significati che prima non avevo pensato, ma perché la scrittura di Tabucchi è viva, è attiva, cammina, ci parla, cammina accanto a noi e ogni volta che la si tocca, la si accarezza, si accarezza l'interiorità di questi personaggi, qualcosa di nuovo nasce, qualcosa che prima non c'era, qui non avevamo pensato, anche perché noi continuiamo a cambiare, e quindi sono molto grato a Teresa, tutte le volte che facciamo qualcosa di Tabucchi, abbiamo fatto anche altre cose, oltre a sostiene Pereira, penso agli ultimi giorni di vita di Fernando Pessoa, insomma penso ad altre cose e ad altre cose che spero faremo. Sono molto contento di questa ricorrenza, insomma, di poter dare un piccolo contributo col mio dottor Cardoso, grazie. Grazie Gianluigi Fogacci, sentiamo ora Stefano Scherini che interpretava e interpreta il ruolo di Monteiro Rossi. Chiedo anche a te che cosa è cambiato dopo tanto tempo nell'approccio a Monteiro, tornare a ripercorrere quell'atmosfera, quelle emozioni, che significato ha per te? Possiamo dire che lungo la via, nel gioco interpretativo del teatro, entra anche una sorta di osservazione tra il ragazzo di allora e l'uomo di adesso. Innanzitutto ciao a tutti, bentrovati. Dunque, tornare su Monteiro Rossi dopo tanti anni, dopo più di dieci anni, per quanto mi riguarda è decisamente emozionante. Monteiro Rossi è stato un personaggio a cui io ho prestato il mio corpo, la mia voce, con molto molto affetto e per una serie di motivi. Il primo, la bellezza del romanzo di Tabucchi, che avevo letto negli anni, alcuni anni prima di affrontare lo spettacolo e che ovviamente mi sono poi riletto in occasione dell'allestimento dello spettacolo di Teresa Pedroni e che trovavo e continuo a trovare un romanzo emozionante e di un autore tra l'altro che amo molto, che è appunto Antonio Tabucchi. E anche il pensiero di averlo potuto conoscere in occasione dello spettacolo Sostiene Pereira, insomma, è un ricordo molto emozionante. Ma parlando di Monteiro Rossi, è un personaggio a cui sono affezionato innanzitutto perché lo spettacolo ha avuto una bella vita nell'arco di tre stagioni, quindi toccando anche teatri importanti ed è un ruolo splendido, ma perché forse rappresenta quello spirito sanamente, direi, rivoluzionario che tutti noi vorremmo avere o forse abbiamo, abbiamo avuto dentro di noi e che quindi in occasione dello spettacolo io avevo potuto vivere e sfogare. È quindi un personaggio che paradossalmente pur morendo non muore, proprio perché credo che quello spirito in realtà ci abiti sempre, un po' abiti ognuno di noi in qualche modo, in una parte più o meno recondita e nascosta del nostro animo. Quindi ritrovarlo è come ritrovare una parte di sé, non soltanto perché è un personaggio appunto frequentato e vissuto in uno spettacolo che ha avuto una bella fortuna, ma proprio perché è qualcosa di più intimo, è una parte quasi vorrei dire costitutiva dell'animo umano, un po' di sano spirito rivoluzionario. Il rapporto chiaramente ora è di una fase molto più adulta, certamente, ma credo che sia un po' quello che dicevo prima. In un certo senso mi verrebbe da dire che ha ragione il dottor Cardoso quando nel romanzo e anche nello spettacolo, ovviamente interpretato poi il dottor Cardoso da Gianluigi, i Fogacci, dice a Pereira che noi viviamo, abbiamo dentro di noi una confederazione di anime e di volta in volta poi c'è un io egemone che rispetto alle altre emerge. Ecco, forse dentro questa confederazione di anime che ognuno di noi porta esiste sempre un Monteiro Rossi e quindi si tratta di volta in volta solo di farlo riemergere, anche solo per il tempo dello spettacolo e quindi delle repliche nuove o dei nuovi allestimenti, delle nuove messe in scena. Quindi è vero che c'è un rapporto ora con una maggiore adultità, però è pur vero che si tratta di andare a ripescare quella parte di sé che è già stata e che probabilmente continua ad essere. Da questo punto di vista non c'è quindi per me un grande distacco, una grande differenza da quel Monteiro Rossi di più di dieci anni fa. È sempre lui, è sempre lì, è una parte nascosta di me che vive dentro di me e a cui mi piace ogni tanto sorridere, come dire, tendere la mano e farlo camminare un po' al mio fianco o davanti a me, come si dice quando si dice che il personaggio deve essere appena davanti a sé, appena davanti all'attore. Ecco, è un bellissimo rapporto per me quello con Monteiro, di cui sono molto orgoglioso, molto fiero. Abbiamo con noi anche Simone Faucci ed Elena Stabile che hanno vissuto un'esperienza simile. Anche loro un viaggio nel tempo perché hanno partecipato allo spettacolo Saudades Pereira sia nel 2012 sia nel 2014, data quest'ultima che è stata una tappa dello spettacolo su cui stanno lavorando adesso interpretando i ruoli del raccontatore e di Marta. Buonasera Elena Stabile. Buonasera. Vuoi parlarci un po' della tua storia con il personaggio di Marta? Che rapporto hai instaurato nel tempo? Come ti senti adesso che dopo quasi sette anni torni ad incontrarlo? Il tuo rapporto con Marta è mutato? E come? Pensi di esserti avvicinata maggiormente al centro energetico del personaggio? Sicuramente c'è stato un avvicinamento. Bisogna dire che nel 2014 il mio fu un approccio molto breve al copione di Sostiene Pereira e al personaggio di Marta, in quanto mettemmo in scena alcuni frammenti del testo in una serata in memoria di Antonio Tabucchi per l'annuale appuntamento con Tabucchi della compagnia. Il primo aspetto che mi colpì del personaggio di Marta e che è stata anche la principale difficoltà che ho incontrato è quello della sua passione politica che è chiaramente molto diversa da come la si vive oggi per tanti motivi. Noi oggi viviamo altri tempi, anche grazie a queste persone che in passato hanno lottato perché le cose cambiassero. Per Marta, come per queste prime donne che partecipavano ai movimenti di opposizione, ai regimi autoritari dell'epoca, l'impegno civile era una vera e propria scelta di vita. Marta parla proprio di fede e vive i suoi ideali in maniera radicale. È proprio una questione di vita di morte. Questione che peraltro per lei viene prima di tutto anche prima dell'amore pur sincero e profondo che prova per Monteiro Rossi, suo fidanzato e compagno di lotta. Credo che quindi questo tipo di impegno così radicale non sia di immediata comprensione ai giorni nostri. Quindi alla ripresa del progetto di quest'anno ho capito subito che dovevo rendermi più personali le motivazioni di Marta, insomma avvicinarmele. È anche vero che a volte testi e personaggi su cui abbiamo lavorato in passato continuano a crescere dentro di noi. Nel lavoro su questo fervore di Marta mi aiuta molto pensare al contesto totalmente avverso in cui si trova. Spesso accade che gli ostacoli anziché inibire rafforzino il proprio credo e i propri obiettivi. È un po' una prova del nove. Per Marta avviene proprio così e anzi lei stessa dice che queste difficoltà le piacciono e riconferma la sua scelta di vita. Comprendere questa vocazione secondo me è fondamentale per interpretare questo personaggio perché è il motore che lo muove all'interno della vicenda. Se non fosse così totale e appassionata la sua adesione ai grandi ideali di libertà e uguaglianza non potrebbe mai smuovere la coscienza di Pereira. Invece è proprio lei insieme a Monteiro a far scattare la prima scintilla del cambiamento di Pereira. Grazie Elena. Ora sentiamo Simone Faucci che interpreta un ruolo che non esiste nel romanzo di Tabucchi, quello del raccontatore. Allora Simone parlaci di questo personaggio, della sua valenza nello spettacolo e del percorso e delle emozioni che ti provoca a tornare ad interpretarlo adesso. Il tempo trascorso ti sembra sia stato utile per una comprensione più profonda dei messaggi che contiene, dei significati che il personaggio vuole veicolare? Possiamo osare dire che secondo Tabucchi il tempo funge da protagonista del nostro esserci. Anche nel teatro riveste un ruolo molto importante, basta pensare a tutta la problematica della replica, che cosa comporta il riprodurre giorno dopo giorno lo stesso spettacolo. Ma sentiamo Simone Faucci. Sì, il ruolo del raccontatore non esiste nel romanzo, è un espediente registico per raccontare appunto il personaggio di Pereira. Attenzione che non è come il ruolo dello sconosciuto che racconta sapendo la storia di tutti prima e dopo. È una figura, quella del raccontatore, che riporta passo passo il percorso che fa il personaggio di Pereira e lo scopre via via che riporta le battute del personaggio, senza esserlo ovviamente, ma riportandole all'ascoltatore, come una certa distanza, non immedesimandosi, è come se fosse il lettore. Ecco, quando si legge una storia e la si scopre via via che leggiamo, è un'azione di riportare il personaggio a chi ascolta. E ovviamente è fondamentale perché è il personaggio di Pereira, il protagonista, quindi è anche una responsabilità enorme. Pereira è un personaggio che si trova a mettere in discussione le sue certezze su cui poggiano le sue abitudini, in cui si è accomodato nel passare degli anni della sua vita. Ma il tempo che passa, i tempi che cambiano, lo mettono davanti a delle parti di sé irrisolte e che quindi deve affrontare. E in questo, almeno io, mi ci rivedo molto perché spesso e volentieri la vita, col passare del tempo, ci ripresenta delle cose irrisolte nostre e quindi tocca decidere se affrontarle oppure no. Non è detto che sia sempre un bene affrontarle, attenzione, in questo caso Pereira si affronta tutto ciò. Per usare le parole del personaggio del dottor Cardoso, lascia crescere il suo nuovo io egemone, lasciandosi guidare da lui, così da dare un cambio radicale alla sua vita, trovando una posizione, una sua collocazione. Ecco, quello che mi fa suscitare, a distanza di anni, di tempo, nel riconfrontarmi con questo testo, mi fa venire in mente. È come se avessimo una nostra musica interna e la volessimo suonare, ma fuori c'è non altra, quella esteriore, quella principale, quella della vita. E noi, per cercare di suonare la nostra, quella interiore, dobbiamo in qualche modo interpretare quella esteriore. E se lo così abbiamo qualche possibilità di suonare la nostra. Suonarla nel tempo o in controtempo a questa musica esteriore. È proprio un'azione, uno sforzo di interpretare questa musica che abbiamo intorno a noi. E poi il fatto di suonarla nel tempo o nel controtempo credo che dipende dal nostro io egemone. Comunque è sempre una questione di tempo. Il tempo, come dice Tabucchi, cioè in realtà, Tabucchi te lo pone, mi colpì perché una volta affrontava il problema ponendo una domanda. Attraversa noi o siamo noi ad attraversarlo? E chi lo sa. Io credo che il tempo fa sedimentare le cose che poi, inconsciamente, inconsciamente, dentro di noi continuano a lavorare. E quando un bel giorno ti si ripresenta, col passare del tempo, hai qualche elemento in più, hai una sensibilità maggiore, capisci più cose di quella musica esteriore che c'è. E quindi forse arrivi a comprenderla un po' di più, a interpretarla un po' di più. E quindi cercare di suonare qualche nota di questa nostra musica interiore in questa sinfonia della vita che ci circonda. E la questione è anche un po' nelle repliche dello spettacolo, della sera, di tutte le sere, dell'attore che va a reinterpretare tutte le sere uno stesso personaggio. Anche lì, la ripetizione del tempo permette da dei trampolini, degli stimoli, dei pungoli per andare a cercare cose nuove. Intanto lo spettacolo di tutte le sere cambia perché il pubblico cambia e quindi lo spettacolo si fa in due. Chi racconta, chi fa lo spettacolo e chi ascolta, quindi in questo caso il pubblico. Quindi il pubblico cambiando tutte le sere cambi sempre un rapporto, un modo di comunicare e quindi quello ti permette di andare anche a scavare, di trovare cose nuove nel personaggio che vai raccontando quella sera. Quindi alla fine credo che sia sempre una questione di tempo e che il tempo come lo interpreti in un modo e in un altro, come dice Antonio, il tempo è la nostra vita. Grazie Simone. Augurandoci che questo incontro possa essere stato utile per proporci altri interrogativi, per fornirci un'occasione di riflessione rispetto al mestiere del teatro, al segreto che muove i fili del rappresentare in un momento così difficile per noi, un momento che sembra esigere un ripensamento, utilizziamo questo tempo al meglio. Seguiamo Tabucchi e cerchiamo di frequentare il futuro. Ci piace chiudere questa puntata come abbiamo iniziato, salutarvi con la voce di Antonio Tabucchi. Il tempo è un elemento fondamentale perché è la nostra vita e adesso ha bisogno, comunque questa strana creatura che noi chiamiamo tempo e che non sappiamo bene che cos'è, perché poi non si sa bene se siamo noi che attraversiamo il tempo o se è lui che ci attraversa. Forse per essere, non dico capito, ma perlomeno per poter avere un significato ha bisogno anche di essere strutturato e non solo attraverso il calendario gregoriano che noi usiamo, ci sono varie forme di calendari, ma attraverso proprio una formulazione narrativa, credo. Dobbiamo raccontarcelo anche il nostro tempo, noi in fondo non facciamo altro che, anche senza scrivere, anche chi non scriva, raccontarci a noi stessi anche in silenzio, altrimenti tutto quello che viviamo non avrebbe senso se noi non ce lo raccontassimo anche mentalmente, ognuno al suo modo, ma se lo deve raccontare.